Musica Qui invece abbiamo una canna totalmente diversa, molto molto sottile, una canna da 120 grammi per la corta e media distanza, molto lunga, 4,65 metri, quindi in grado di gestire anche travi lunghi e finali di conseguenza lunghi per la pesca di galla o per la pesca a fondo quando i pesci sono un po' smaliziati. Questa è l'Elite Titanium 120, una canna in tre sezioni e come tutte le canne titanium ha l'innesto rinforzato in titanio. L'innesto in questo caso è il classico spigot che permette di avere un'azione più parabolica e mantenere costante il diametro della canna, quindi si ottiene una canna con un fusto molto sottile. Ed infine la cima riportata in carbonio pieno, ultrasensibile. Come tutte le canne Elite, i cimini sono rivestiti del catarifrangente in modo da non dover utilizzare lo Starlight nella pesca notturna. Musica 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 Grazie a tutti.